La scuola è aperta a tutti, l'istruzione inferiore impartita per almeno otto anni è obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegna le famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso. E però voi siete ricercatori e vedete il giorno della Costituzione. Che rapporto c'è tra le due cose? Per esempio l'articolo 33 parla della ricerca, dell'istruzione e dice che deve essere libera, tutelata allo Stato, non è il solo il 34, il 9. Sono tanti gli articoli della Costituzione che prevedono che lo Stato debba impegnarsi a vantaggio di tutti i cittadini per la formazione e per creare cittadini liberi e consapevoli. Questo è il senso della Costituzione. La Costituzione è una cosa vivissima. Bisogna dire che noi abbiamo una delle Costituzioni più giovani del mondo. Quando si dice che è vecchia, non è vero, ce ne sono tantissime, sono molto più vecchie di secoli. Quindi il problema della Costituzione italiana è, primo, che va conosciuta e secondo, che va applicata. E nella Costituzione ci sono scritte in questo metro quadro, anzi no, mezzo metro quadro che vedi qui dietro. Sì, sei arrivato fino alla fine. Tutta la Costituzione. No, non ci sono gli attori transitori. Tutto, c'è anche il transitorio perché la divieto di ricostituzione del partito fascista, è importante che ci sia anche quello. Diciamo così, è un passante, però in questo mezzo metro quadro che vedi sulle spalle c'è quello che tiene insieme tutte le persone che esistono in Italia, tutti i cittadini italiani. Però adesso, io faccio l'avvocato del diavolo. Sì, come no? Per quale ragione in democrazia non si dovrebbe modificare la Costituzione? La Costituzione stessa prevede di essere modificata. Nessuno dice che non si deve modificare. Noi diciamo che va rispettata la Costituzione che esiste, che c'è oggi. Ci sono delle procedure, la Costituzione può essere modificata, la Costituzione stessa. Quindi il problema è anche rispettare le procedure, modificarla in un senso che sia in sintonia con quello che facevano i padri costituenti. I padri costituenti erano di tutte le posizioni politiche. E questi valori della Costituzione, cioè quei valori che consegnano a un Paese di essere vivo, come ogni sistema vivente, quindi di essere in grado di rinnovarsi in continuazione, io auspico non vengano modificati. Tu prima dicevi perché, che problema ci sarebbe a modificare la Costituzione. Certamente, ci sono tanti aspetti che possono essere modificati, sicuramente lo si deve fare in maniera condivisa perché una Costituzione abbraccia una collettività di persone enorme, 60 milioni di abitanti. Però certi principi, io auspico, non vengano mai modificati. Sono quelli di apertura e rinnovamento, quelli di tutela della conoscenza come strumento di appartenenza al popolo. Cioè quelli che sono fondamentalmente basati sul fatto che tu tanto sei cittadino, quanto più hai libertà di conoscenza e di coscienza e di espressione. Allora, io sono qua per manifestare per la difesa della Costituzione perché l'articolo della Costituzione dice che la Repubblica italiana riconosce la scuola privata ma senza oneri. Invece, qui sta succedendo che tagliano, hanno tagliato in tre anni 15 miliardi di euro per l'università, la ricerca, la scuola pubblica e magari finanziano la scuola privata. Poi parlano tanto di meritocrazia. Quando abbiamo al governo un ministro, la Germini, che fu sviluciato nel 2000 come presidente del Consiglio Comunale di Desenzano dai suoi della Lega, dai suoi di Forza Italia, per il manifesta incapacità politica ed organizzativa. Poi parlano di meritocrazia. Da cosa deve essere difesa la Costituzione? La Costituzione, diciamo, deve essere difesa da dei tentativi di stravolgerla perché ho sentito parlare tanto in questi giorni di possibilità di modifiche della Costituzione che effettivamente sono possibili, però in maniera ragionevole, non stravolgendola, svuotandola completamente. In questo momento sembra che tutti gli articoli che sono almeno importanti per me, questo, la cultura, la stampa, la scuola, che sono tutti garantiti, vengono considerati più o meno come delle cose scritte lì 60 anni fa e poi chi se ne importa? Ci vede una differenza lei tra i padri costituenti e l'attuale governo? Eh beh, direi di sì, diciamo che i padri costituenti sono state delle persone, vogliamo definirle, usiamo un parolone, illuminate, nel senso che si sono racchiusi e hanno creato un qualcosa che... Lei pensa che il nostro primo ministro non è illuminato? Ah, lui ha una sua stella polare, che però è tutta sua, diciamo che a noi non interessa molto, a lui sì, e quindi sinceramente io preferivo le stelle polari degli altri, dei padri costituenti. Perché dobbiamo difendere la Costituzione? Perché c'è una situazione di bullismo istituzionale, chiamiamolo così. Ma è una volta buona, perché sarà la millesima... Cioè, io sono stanco di manifestare. Anch'io, ma è un bruttissimo segno manifestare per difendere una Costituzione, nessuno Stato è sotto attacco, solo da noi. Quando si mette in dubbio l'uguaglianza, vuol dire che qualcosa non va, cioè che il nostro Presidente del Consiglio è anticostituzionale. Ma io dico che l'uguaglianza è stata, più che messa in dubbio, è stata eliminata del tutto. Credo che la cultura della disuguaglianza e dell'iniquità sia vincente in questo momento. Ecco perché bisogna manifestare. Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Grazie. 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 Grazie.